oh gordo cosa stai facendo? sto visitando il tigre blog è una bomba a voi vai su www.tigreblog.com ok trovi le hit è una bomba ok oh gordo ancora su sto cazzo di computer ragazzi tigre blog è una bomba ok mi fa degli strani effetti sto cazzo di blog ok big up ai miei homie del blog gordo ha ha po 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 po